ciao a tutti oggi non posso essere lì con voi però vi faccio un grosso in bocca al lupo da qua vi ringrazio tantissimo per il premio giovane rivelazione dell'anno un grandissimo ricordo un bellissimo ricordo di questo torneo perché diciamo che un po mi ha lanciato nei torni internazionali e dove ho sfidato sia il celsi che il bolussia dortmund oggi mi emoziono anche un po mandarvi questo messaggio perché quel torneo è stata un trampolino di lancio per comunque fa un confronto grosso con con grandi club ti apre un po diciamo al mondo del calcio sicuramente avrete un percorso molto lungo da fare dovete sempre crederci ringrazio per questo premio e vi faccio un in bocca al lupo ciao